Ciao a tutti! E' un'idea! Popolo romano-laziale! Benvenuti al concetto per gli spiriti liberi! Benvenuti al concetto per le teste pesanti! Per chi pensa che ancora è possibile andare controcorrente come il Marcarolo! Benvenuti a chi crede nella pace, nella pace, quella vera, quella messa in casa da gente come quelli di Emergency! Benvenuti al popolo di Internet! Benvenuti a chi è contro i mezzi di distrazione di massa! Benvenuti nello stato libero di l'inviva! Perché qui stasera, niente è... Pro pro! Pro tito! Pro tito! A lo sin objectivo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.